E' la prima discesa in campo ufficiale in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, quella annunciata oggi da Paolo Mandracchi e Fabio Leonte, i quali hanno fatto sapere che nel 2017 saranno promotori di una lista a sostegno di un proprio candidato a sindaco. Un annuncio sottoscritto in un documento dal consigliere comunale di Selle, dall'ex assessore alle finanze con le aggiunte Cucchiare e Bono. Non viene indicato alcun nome per il candidato a sindaco, ma potrebbe davvero non mancare molto tempo per conoscerlo. Leonte annuncia un suo ritorno nella vita politica saccenza e dunque dopo l'ultima esperienza di assessore dell'aggiunta di Vito Bono, concluso anzitempo per colpa di un'incompatibilità. Le elezioni amministrative si avvicinano a quell'appuntamento saremo presenti con una lista e con un nostro candidato, confermano due esponenti della sinistra saccenza, i quali hanno anche convocato una conferenza stampa. Una decisione è quella di presentarsi alle prossime elezioni che giunge dopo quattro anni di opposizione all'amministrazione di Paola, con un'attività politica definita di battaglia senza sconti nei confronti di quello che, dicono Mandracchi e Leonte, si è rivelato solo un sistema di potere che ha lasciato irrisolti i problemi del nostro territorio. Ancora Mandracchi e Leonte si autodefiniscono forti della nostra storia personale, della nostra identità politica, sempre al servizio della gente, ritenendo che ci sia la necessità di un'alternativa credibile, vicini ai cittadini, con un programma aperto al contributo di chi metterà al primo posto l'interesse della città. Un progetto che, concludono Mandracchi e Leonte, sarà condiviso solo con chi intende la politica come dialogo col cittadino, le cui stanze spesso sono state considerate un fastidio degli amministratori. Candidatura quella del raggruppamento di Sella, anche se ci si presenterà quasi certamente con un simbolo civico nel tentativo di aprirsi ad altre forze, che apre un dibattito nello schieramento di opposizione. Domenica prossima il PD eleggerà il suo nuovo segretario nella persona di Michele Catanzaro. Dopo mesi di carica vacante, a seguito delle dimissioni di Gianfranco Vecchio, si sa già che anche gli ex MPA Ferrara e Frigerio si presenteranno con una loro lista, mentre il gruppo che fa capo a Nuccio Cusumano e a Sicilia Democratica, pur con una lista autonoma, dovrebbe confermare un'intesa col Partito Democratico su un unico candidato a sindaco. Ma l'annuncio di Mandracchi e Leonte apre nuovi possibili scenari, in attesa di conoscere le decisioni degli altri componenti dello schieramento di centro-sinistra e in attesa anche di conoscere quelle del gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle, soggetto politico a cui, dopo quello che è successo nelle ultime ore, si guarda ovviamente con estrema attenzione. Qualcosa si muove dunque al di là dell'annuncio di oggi di Paolo Mandracchi e Fabio Leonte e anche lo stesso schieramento di maggioranza dovrà fare delle scelte e questo non pone interrogativi solo sulla decisione personale che assumerà prima o poi Fabrizio Di Paola, che di candidature e alleanze dovrà occuparsi anche lui, anche se in questi giorni e sicuramente altre emergenze, quelle che riguardano l'esercizio della carica di sindaco. NCD e Forza Italia, ad esempio, dovranno decidere se proseguire o meno in un percorso che li sta vedendo allo stesso tavolo, anche se in un clima piuttosto teso e le sorprese potrebbero non essere finite.